Pensate che il porto in questi tempi con noi ovviamente sta progettando di essere totalmente elettrificato affinché le navi non possono produrre inquinamento quando sono all'ormeggio nelle banchine del porto di Trieste. Così l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocci Marro durante il webinar Siderurgia, asset strategico per il paese promosso da Fratelli d'Italia. L'assessore ha illustrato ai colleghi di partito le varie tappe che hanno portato allo spegnimento dell'area caldo della Ferriera e su come si proseguirà. Ci saranno oltre 227 milioni di contributi fra pubblici e privati quindi un grosso investimento fra Cremona e Trieste dove Cremona continua a produrre l'acciaio a Trieste si potenzia e si raddoppia appunto il laminatoio. Scocci Marro ha anche posto l'accento sull'importanza di rendere l'attività logistica triestina con il suo porto sempre più green. Nella riconversione è prevista anche una società green energy che sarà costruita con 56 milioni di euro di investimento, c'è una nuova centrale di cogenerazione di energia elettrica appunto al servizio del territorio. Diciamo che è un esempio virtuoso di promesse mantenute ed è auspicabile che questo venga ovviamente, fatte le debite proporzioni, anche imitato nel resto d'Italia. Grazie, sembrerebbe un'altra Italia e soltanto Trieste una delle capitali d'Italia.